L'emote che vedete a schermo potrebbe non tornare mai più nello shop, l'emote in questione si chiama proprio è complicato e la Epic ha ricevuto una causa per questo balletto da Kaila Nagami che sarebbe il suo proprietario e quest'ultima afferma che questo balletto è protetto da copyright e soprattutto che la Epic non ha chiesto il permesso di inserirlo nel gioco. Quindi molto probabilmente questo balletto verrà rimosso oppure non tornerà mai più nello shop ed infatti a schermo potete proprio vedere la comparazione fra il balletto di Nagami che sarebbe il suo proprietario e il balletto che è stato inserito in gioco, praticamente sono identici. Fatemi sapere se voi possedete questo balletto perché molto presto potrebbe essere rimosso. Saluto le ultime persone che si sono iscritte e se sei arrivato a questo punto mi raccomando iscriviti al canale. Grazie a tutti.